bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite ci sono finalmente le nuove immagini ufficiali dell'autobus della battaglia 2.0 ieri ne abbiamo parlato ma oggi ho anche uno spezzone da farvi vedere parleremo anche della nuova patch la 14.30 di tutti i bug che devono fixare e di tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e voglio farvi vedere una cosa come sapete il 26 settembre ci sarà il compleanno di fortnite per la prima volta dopo tre anni lo hanno deciso di festeggiare un mese dopo quello che si faceva di solito perché ufficialmente il battle royale è da datarsi a settembre come sapete ragazzi ci sono tante sfide tanti premi coperture adesivi spray background musicali e finalmente al termine di tutte le sfide il backpack con la torta e il numero 3 tra queste cose c'è anche un emote gratuita ragazzi e io volevo farvela vedere in anteprima molto rapidamente eccola qua ragazzi come vedete l'emote dove spunta la torta di compleanno con sopra un candelotto di diamite che la fa esplodere e il personaggio ci rimane un po male ne approfitto per farvi vedere molto rapidamente anche lo spray e l'adesivo del compleanno quindi tanta tanta roba tanti regali e soprattutto anche una missione da 80.000 punti esperienza ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono tutti i nuovi bug fix che verranno fatti nella patch 14.30 sì perché non si salta dalla 14.20 alla 14.40 come pensavamo ma in mezzo ci sarà un patch non sappiamo se pesante oppure leggera ne leggiamo molto velocemente alcuni fixeranno un problema dove su salva al mondo si crasha durante le endurance per quanto riguarda invece il battle royale ci sono ancora dei problemi per l'accumulo di punti esperienza con le schede punti quindi fixeranno anche quello e anche problemi per le tanniche di benzina nel battle lab poi tante altre piccolezze per mobile che comunque fanno benissimo a sistemare che renderanno il gioco migliore ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché guardate che figata hanno messo come vi anticipavo negli stage server la pace 14.30 cosa vuol dire che quando mettono una pace negli stage server molto probabilmente dopo pochi giorni la pace viene rilasciata pubblicamente in questo caso io mi immagino che si parli di settimana prossima non sappiamo se addirittura sia una pace senza downtime perché in realtà abbiamo già passato questa settimana o se arriveranno delle novità io sono abbastanza convinto che potrebbero introdurre finalmente il nuovo battle bus e potrebbero mettere dentro della roba del fortnightmers di cui tra l'altro voglio parlarvi tra pochissimo vi ricordo anche una cosa che con l'arrivo del 26 settembre comincerà anche il lama rama quindi la collaborazione il crossover tra fortnight e rocket league che vi ricordo potete scaricare gratis dallo store di epic games fatelo mi raccomando questa immagine la conoscete benissimo sono tutti i regali 5 sfide su rocket league che sbloccheranno oggetti sia di là che su fortnight una delle cose in particolari che volevo farvi vedere era la nuova scia che si otterrà come penultima sfida o terza non mi ricordo ed eccola qua direttamente in game davvero molto carina una scia che ci sta essendo gratuita poi piace ancora di più e che potrebbe finire senza nessun problema nella vostra collezione ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle buone notizie per i custom match quindi le partite personalizzate forse non lo sapete ma dalla patch 14.20 possiamo bannare dai custom server gli utenti che danno fastidio e che quindi non garantiscono una buona esperienza di gioco nei nostri server privati non so se in realtà sia già attiva questa funzione ma nei file di gioco sono presenti due string che leggiamo subito party kick custom ban you are currently unable to play in custom match due to prior offense non puoi praticamente partecipare nei match privati per comportamento scorretto per offese sono tanto contento che abbiano inserito questa funzionalità perché uno dei grandi problemi che si sa di fortnite è appunto i server privati che gli utenti creator fanno e che vengono purtroppo rovinati da persone che non hanno niente di meglio da fare quindi mi auguro che sia già in funzione andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una grande notizia questa dove si parla del fortnightmares nella patch 14.20 molti costumi di halloween hanno ricevuto un update sono state modificate delle cose sono state aggiornate anche le immagini del background musicale e abbiamo delle fotografie che potrebbero indicarci come sarà lo shop durante il periodo del fortnightmares come vedete tornerebbero secondo questa immagine tutte le skin quelle la testa di zucca, raptor, il big mouth, il patch patroller e come guardate a destra anche i calciatori zombie che sono usciti solamente durante lo scorso halloween ovviamente non manca il ritorno dello school trooper e della school ranger con tutto il set completo sembrerebbe anche la peli bone quindi la bananita quella che era uscita l'anno scorso e lo spooky team leader quindi l'orsacchiotto di halloween che a me personalmente piace tantissimo tra l'altro per gli occhi più attenti ci sono delle ragnatele che cominciano ad apparire in map anche io le ho notate e molti di voi me le stanno facendo notare nei messaggi privati di instagram soprattutto nella zona di foresta guardate vicino agli alberi negli angoli delle case e cercate di stare attenti se le ragnatele che vedete aumentano con il passare dei giorni tra l'altro ha aggiornata anche questa immagine che era l'insegna del vecchio negozio di halloween che avevano fatto per l'occasione a corso commercio corso commercio c'è ancora è molto probabile che rivedremo anche questo negozio devo dire che io sono molto molto in hype per il fortnightmers perché mi piace davvero tantissimo e chiudiamo con un argomento davvero molto interessante perché sono state aggiunte 4 nuove modalità nella rissa a squadre non sono ovviamente ancora disponibili pubblicamente ma se andiamo a vedere sotto la cartella respawn che sarebbe praticamente la part la battaglia reale va fa un bagno la il team rumble abbiamo respawn low respawn solid gold respawn un vaulted e respawn vamp ci auguriamo di vederle il prima possibile magari faranno parte della nuova patch 14.30 e perché no magari ufficialmente le potremo giocare insomma ragazzi con l'immagine dell'autobus della battaglia 2.0 io vi ringrazio per aver guardato questo video news mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate dalle 8 in live su twitch ciao